Cominciamo in Sud America nell'aprile 1948 col bombardiere, con Lancaster, trasformato in passeggeri. Portava 13 persone. La linea era Roma, Dakar, diretta, 12 ore. E si partiva alle 8 da Ciampino. Ciampino non c'era la pista ancora, c'era lì le crelle. Si arrivava a Dakar la sera, dopo 12 ore più o meno. E poi l'Italia comprovò il DC4. Ci fu un cambiamento anche come direzione, perché Velani rimase. Ma come presidente venne Carandini. Carandini era un'ambasciatore a Londra. E quella fu un'accoppiata formidabile proprio. Carandini e Velani, perché fu molto bravo. Da lì nacque, l'Italia vera nacque allora. Riuscì a trovare sovvenzioni da privati, poi riuscì a intrufoarsi nell'Iri. E con l'Iri l'Italia fiorì, poi venne fuori. Nel gennaio del 50, sì, nel 49, 48, 49, andiamo a Miami a fare un corso, il passaggio al DC4. Poi venne il DC6. Nel 57 ci fu l'annessione dell'Italia con l'Alai. In realtà i grafisti oramai si vedeva che non era più il caso. E c'era il problema del collocamento della persona. Dice, buttarli fuori no. E allora una parte ci fu ventilata da Pivetilo con una radio stessa nominare. Lasciò trapelare l'idea che se qualcuno voleva e che aveva il barrietto da pilota, sarebbe potuto prendere in considerazione il passaggio di categoria. da l'artografista a piloti. Chi non voleva, rimaneva, faceva un addestramento come tecnico di voo. Io avevo già il brevetto da pilota del secondo grado. Fu chiamato, fece parte del primo gruppo che cambiò categoria. Some Maria. Grazie.